buonasera a tutti ragazzi bentornati sul mio canale ragazzi a poco terminata la partita a pisa quindi all'arena garibaldi stadio romeo anconetani pisa crotone finita per 3 a 2 per pisa bene finalmente un pisa che ritrova la vittoria in casa scusate la voce ma ho fatto un po di politico oggi quindi è chiaro che mi viene meno bene a parte questo siamo siamo insomma siamo scesi in campo nei primi 20 minuti abbiamo inquadrato un po la situazione io direi che un crotone in insomma è venuto qua che non è venuto a fare una passeggiata ma era ma era scontato quindi anche perché la situazione in classifica del crotone è veramente insomma pesante e penultimo e quindi cercava sicuramente una vittoria per per cercare almeno di riportarsi in zona play out e quindi è stata veramente una partita dura dura veramente e perché comunque il crotone io la ritengo una formazione insomma forte anche per i giocatori chi ha quindi per i primi 20 minuti diciamo così che c'è stato ci siamo siamo studiati ecco quindi ci siamo studiati e poi alla diciamo al 22esimo il pisa rompe gli induci con con pusca in una bella rete e poi benali e poi torregrossa 45esimo questa è stata la tripletta del pisa ecco un tridente offensivo dove benali ha fatto il trequartista e quindi quindi torregrossa e pusca quindi i tre nuovi acquisti si sono si sono incontrati tutti e tre e benali appunto ha fatto il trequartista quindi un primo tempo dove il pisa è stato io direi meritatamente in vantaggio sul 3 a 0 nel secondo tempo stessa 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 musica ecco nei primi nei primi minuti poi ci sono state le sostituzioni e dopo di che io l'arbitro fischia una punizione ma era inesistente la punizione va bene l'arbitro fischia la punizione e mogos da poco entrato ha segnato ha segnato il 3 a 1 vabbè la punizione devo dire e va non c'è stato niente da fare per nicolas dopo dieci minuti uomo sempre su un'azione su una punizione viene fuori il 3 a 2 quindi dopo di che abbiamo noi siamo andati vicini con torregrossa al 4 a 0 è all'inizio all'inizio del ripartenza nel secondo tempo purtroppo non è entrata va bene e se non partita sarebbe stata definitivamente chiusa va bene ma al di là di questo dopo 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 la rete di di cuomo non diciamo crotone non ha più non ha più avuto modo di avvicinarsi poi più di tanto alla porta difesa da nicolas e niente ripeto ora io questa diciamo così è stata fondamentalmente la fotografia della partita ecco io tanto dico questo bravo le verb mi è piaciuto mi è piaciuto verbo mi è piaciuto beruato anche se è un beruato un po sottotono siega marin bravo ma di sicuramente da 7 e un ben ali a 7 e mezzo per come trequartista oggi ha veramente dato ha fatto una bella prova bravo anche torregrossa davanti lettori grosse tre quattro occasioni veramente bravo peccato per il 4 a zero ma se li farà io penso la prossima volta e bravo anche buscas ma in certe occasioni ha avuto dovrebbe forse passare la palla prima ecco poi io devo dire una cosa io ho visto un pisa nel secondo tempo dirà dei degli ingressi insomma dei degli ingressi poi è entrato entrato ermanson al posto di caracciolo perché non stava bene e poi ha rimediato un secondo un giallo e quindi sarà non sarà presente a partiti di polde noi perché era già di filato quindi va beh detto questo il pisa secondo me soffre un pochettino al centrocampo soffre un pochettino un centrocampo comunque il mister ha fatto bene a buttare dentro finalmente il cliente offensivo e niente quindi questa volta non ha stato attento e bene così ecco perché noi avevamo bisogno di questa vittoria per mantenere diciamo così per rimanere agganciati al trenino perché abbiamo tre punti dalla prima insomma non è che poi le altre sono lì siamo appunto due punti e tre punti alla vetta 104 squadre quindi sono sempre quelle insomma che alla fine girano quindi bene così bene così e forse anche un discorso di stanchezza io penso perché anche beruato ha avuto oggi un calo ma è normale cioè nel senso perché tante partite ravvicinate una all'altra è chiaro che portano portano a queste a queste cose quindi un po un po di sofferenza sicuramente c'è stata c'è stata nel finale squadra che comunque si è comportata bene nel finale ha retto il colpo diciamo così però dobbiamo ritrovare sicuramente un tour e e dobbiamo ritrovare un centrocampo forte ecco dobbiamo sicuramente ritrovare un centrocampo e vabbè speriamo che diciamo così parte che ripeto secondo me la punizione non c'era sul primo gol vabbè sulla prima rete del che insomma ha fatto poi il crotone pitagorici 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 vabbè e poi diciamo la la seconda rete d'accordo anche lì scaturita sempre da un calcio di punizione e poi anche lì c'è stato lucca all'ingresso di lucca va bene non è che abbia non è che poi abbia dato insomma che abbia fatto chissà cosa ma è anche vero che in tre quattro occasioni c'era c'era anche c'è sicuramente ci sarebbe stato da fischiare delle punizioni cosa che l'arbitro non ha fatto quindi non lo so ecco anche lì bisognerebbe rivederla la cosa però sicuramente un pisa non mi è piaciuto ecco dopo dopo i cambi non mi è piaciuto non mi è piaciuto per niente dobbiamo ritrovare veramente dobbiamo cercare il mister deve lavorare per cercare di riassettare diciamo così il centrocampo perché il centrocampo per per noi per noi per tutti è basilare è basilare e forse quello ci è venuto a mancare però nel complesso è stata una bella partita ripeto e con questo concludo che io penso insomma un crutone che secondo me è strano che si trovi in questa posizione classi di classifica perché sinceramente insomma non ho visto un crutone che comunque ha dato insomma fatto la sua partita ecco vabbè e comunque in certe occasioni ci ha dato anche il filo della torcia sicuramente ecco io penso che se il mister riuscirà a ritrovare a ridare la quadra al nostro centrocampo io credo che a questo punto ci siamo ripeto ci è venuto forse a mancare un pochettino il centrocampo oggi mister è partito bravo perché è partito con un bel tridente e se ne sono visti i risultati quindi bene così abbiamo fatto tre reti ripeto purtroppo la quarta non è entrata per un soffio perché se no io credo che a quel punto la partita non avrebbe più detto niente va bene così non è stato ma alla fine ma alla fine insomma ci siamo portati a casa i tre punti abbiamo ritrovato la vittoria la vittoria in casa e quindi io direi che va bene così ripeto l'ultima cosa dobbiamo ritrovare il centrocampo io penso che il mister lavorerà su questo senza ombra di dubbio bene io per questo video la finisco quasi è piaciuto questo video pollici su mi raccomando iscriviti al canale se ancora non l'avete fatto e io vi ricordo una cosa il pisa resta e tutto il resto passa a sabato grazie a tutti